salve gente volete scoprire come si presentano le celebrità italiane quando finalmente leviamo loro il trucco se la risposta è sì beh non vi trattengo oltre se non per ricordarvi che potete sostenerci con un mi piace iscrivendovi al canale e cliccando sulla campanella per essere aggiornati sui nuovi video iscriviti al canale Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.